Il nostro paese è un'ottima cosa che è un'ottima cosa che è importante. Voi volete cercare l'inforzamento, la figura, la traduttura a una questione di questo? Questa non è una manifestazione culturale, la Fiera dell'Italia. È una manifestazione politica impostata da Israele. E' uno stato italiano che ha un servizio in oto in altri paesi, perché in Spagna non è di poter dire, ma ha fatto una politica tantissima. C'è una repubblicità, 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 c'è una repubblicità di Israele. Gli accusi di antisenitismo ci si chiamano tutti, è stato un tempo ormai. Israele, oltre a manipolare, violare i diritti umani fondamentali dei paesi finesi, ha disegnato la parte migliore della tradizione culturale. Dall'illuminismo in poi, i brei erano noti alla guglia dell'internazionalismo, del liberalismo, del socialismo poi, Carlo Marx. Sono i circostanti della Fiera, ovviamente, la polizia in assetto. Siamo quasi arrivati. Ok, qui siamo in giallo 8, altamente vicino alla Fiat, l'ex Fiat Avio. Il cordone si sta organizzando. Ok, sempre l'automia in sangue, l'angotto, i mani che tanti sono bloccati da un cordone di poliziotti e guadagnanza. Sono laggiù. Ve vedete, sento la rebandiere. Sisteremo fino alla giustizia in Palestina. Sarete a fianco noi come saremo, a fianco le morte e l'otte. Grazie. Sarete a fianco noi come saremo. 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 Dio non dimentica i musulmani perché è lì sopra degli israeliani. Devi che la moschea che c'è in Palestina di tutti i musulmani, di lasciare l'informazione a Bassus, non può massacrare i bambini e non lasciarli senza cibo e benzina e poi presentarli a fare una bella faccia. Non può farlo! Perché nessuna scuola e i suoi libri sono uli. Si ha voglia di parlare di macchie e si è sincera. Non lavora sotto e fa una faccia. Quindi è ora che la verità viene a bella.